Da anni sono coinvolto nei programmi della Back School, in quanto i dolori alla colonna vertebrale affliggono oggi un numero sempre più elevato di persone. Nelle statistiche mediche questa patologia figura tra le prime cause che creano assenza dal lavoro con grave danno sia sociale che economica. Una delle principali cause della diffusione di questa patologia è sicuramente dovuta al fatto che oggi ci muoviamo poco e male. Il progresso tecnologico ci ha portato ad una sempre maggiore sedentarietà. Molte persone, a causa del lavoro, sono obbligate a sedere per diverse ore a un'esprudenza, altre invece a stare in piedi, altre ancora a sedere in macchina ed assumere postura storica. Scompare così, con il passare degli anni, la capacità e la volontà di gestire il proprio corpo in modo corretto. Chi si occupa di malattie della colonna vertebrale sa che in moltissimi casi il mal di schiena può essere facilmente trattato con alcuni semplici accorgimenti. Senz'altro, uno dei modi più efficaci per ridurre l'entità e la frequenza del male di schiena consiste nel tenere il proprio fisico allenato con una serie di esercizi che dovranno essere eseguiti con regolarità e costruzione. Gli esercizi che vengono proposti in questa videocassetta con l'ausilio di una spalliera vi potranno essere senz'altro di grande e da tenere presente che ognuno di noi ha il proprio mal di schiena, l'insorgere del quale è sempre dovuto molteplici fattori. Questa serie di esercizi che vi proponiamo sono estremamente semplici da eseguire e di grande utilità. Nonostante ciò, è necessario che nella scelta del vostro training quotidiano ci sia l'approvazione del vostro specialista o medico di fungione. Oltre a questa attività fisica, ci sono altri fattori da tenere in consulenza. Un'alimentazione corretta, controllo dello stress che influenza negativamente la qualità della vostra muscolatura, evitare posizioni scorrette e ridurre al massimo carichi errati sulla colonna vertebrale. Se presterete un po' di attenzione a tutti questi accorgimenti, vedrete che il mal di schiena non sarà più quel problema che troppo spesso angoscia la vostra esame.